Ciao, benvenuto a questo nuovo video dedicato alla Epson F2100, in questo video ti mostrerò come stampare la t-shirt bianca a 1440x720 a 8 passi, che equivale alla risoluzione media, è la risoluzione dove si inizia a stampare un buon compromesso tra velocità e qualità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.